Salve a tutti, è stato sottoscritto per adesso solo dalla CISL Scuola il nuovo contratto integrativo sulla mobilità per il prossimo triennio e sono previste interessanti novità per i docenti nuovi messi in ruolo. Sappiamo infatti che il legislatore ha introdotto un vincolo prima quinquennale e poi ridotto a tre anni da parte del decreto legge sostegni bis nei confronti tutti i docenti messi in ruolo a partire dall'anno scolastico 2020-2021. Nonostante le pressanti insistenze di parte sindacale e del mondo della scuola tutto, il legislatore e quindi la politica non ha ritenuto di intervenire con lo strumento unico possibile, ossia una norma di legge per l'eliminazione totale del vincolo. Tuttavia in sede di trattative per la sottoscrizione del nuovo contratto collettivo integrativo sulla mobilità è stata introdotta una soluzione interessante sicuramente favorevole per i docenti nuovi messi in ruolo. In particolare il nuovo contratto prevede infatti la procedura per l'assegnazione della sede definitiva di titolarità che deve passare attraverso la procedura di mobilità. Spieghiamo meglio, tutti i docenti nuovi messi in ruolo per ottenere la sede di titolarità, quindi la sede definitiva, potranno partecipare alle operazioni di mobilità e successivamente solo dopo l'assegnazione della sede definitiva scatterà il vincolo triennale. Il contratto consente in particolare a tutti i docenti nuovi messi in ruolo di partecipare alle operazioni di trasferimento per ottenere la sede di titolarità anche ai docenti immessi in ruolo dall'anno scolastico 2020-2021. Ci si è chiesti se anche i docenti reclutati tramite la prima fascia delle GPS possono partecipare alla procedura di mobilità. In realtà questa tipologia di personale non potrà partecipare quest'anno alla procedura di mobilità non fosse altro perché non sono ancora di ruolo. Infatti la norma del decreto sostegni bis che ha previsto il reclutamento straordinario dalla prima fascia delle GPS prevede che il primo anno si tratta di un carico a tempo determinato che vale come anno di prova e formazione al termine del quale i docenti dovranno superare un esame finale. Solo in seguito al superamento dell'anno di prova e al superamento di questo esame finale potranno considerarsi immessi in ruolo quindi solo a partire da quel momento potranno partecipare alla prossima procedura di mobilità per poter ottenere la sede di titolarità. Arrivederci a tutti! Grazie!